Sostenere il candidato presidente alla regione Luciano D'Amico e contribuire alla costruzione di un'area riformista con l'obiettivo di ampliare la visione politica del centro. Sono due gli obiettivi della deputata di Tagliaviva Maria Elena Boschi, che a Pescara ha partecipato a un incontro con i simpatizzanti ed esponenti politici. Dopo l'introduzione del presidente provinciale di Tagliaviva Carmine Ciofani è intervenuto Luciano D'Amico, il quale ha affermato che in quella che è una coalizione ampia e plurale, un caso unico in Italia e di cui siamo orgogliosi, il contributo riformista e moderato è fondamentale. La deputata Boschi ha garantito tutto il sostegno al rilancio dell'economia abruzzese. Italiaviva ha detto che sarà al fianco di D'Amico, noi siamo a sostegno convintamente di questa candidatura perché è la migliore per noi, per l'Abruzzo, per i cittadini di questa regione. Poi ovviamente stiamo cercando come Italiaviva di creare una lista che tenga insieme tutti i riformisti e che possa dare un contributo anche alla stesura del programma in termini di proposte e di idee per questo territorio. Sicuramente quello che non funziona ce l'abbiamo sotto gli occhi, tutti i dati ci indicano che la giunta Marsiglio sta facendo soltanto danni a questa regione, sono fermi gli investimenti in infrastrutture, nonostante le risorse ci siano non vengono spese, molti giovani dell'Abruzzo sono costretti a lasciare questa regione per trovare lavoro. Noi ripartiamo dalle cose fondamentali, ha aggiunto Boschi, il diritto alla salute, il diritto al lavoro e... Il diritto anche a vivere in una regione che possa essere competitiva in termini di sviluppo economico, di crescita e chi meglio di D'Amico può incarnare anche un altro asset fondamentale dell'Abruzzo che è l'educazione e la cultura. Perché se non offriamo la possibilità ai giovani, alle giovani di avere in Abruzzo anche la possibilità di formarsi e di formarsi all'eccellenza, difficilmente poi questo territorio potrà avere un futuro brillante. Noi a questo crediamo e per questo crediamo convintamente in questa candidatura. E mancabile l'abbraccio con il coordinatore regionale di Taglia Viva, il parlamentare Camillo D'Alessandro.